Direttore Gianmarino, un percorso iniziato praticamente tre anni fa che portate a coronamento anche quest'anno il raggiungimento dell'obiettivo dei play-off. Sì, fortunatamente abbiamo centrato gli obiettivi anche quest'anno come in tutte le cose sicuramente con un pizzico di fortuna i valori alla fine sono usciti e Pineto ha fatto bene. Adesso speriamo di fare meglio, cercando di fare al meglio questa partita, questa prima partita, speriamo che ce ne sia un'altra. Che avversario pensi di trovare domenica al Tubaldi di Recanati e che partita dovrà fare il Pineto? Il Pineto dovrà fare una partita aggressiva perché se vogliamo vincere dobbiamo andare a cercare di vincere la partita. Tubaldi troveremo una squadra forte, costruita bene, con dei giocatori importanti come lo è il Pineto, però sarà una partita, secondo me, aperta a tutti i risultati. Speriamo di imbroccare bene la gara e non come abbiamo fatto l'altra volta. Poi, chiaro, vinca il migliore. Quale potrebbe essere se c'è l'arma in più da sfruttare per i biancazzurri? Ma noi dobbiamo stare attenti ed essere cattivi sotto porta. Domenica non lo siamo stati ad Avezzano e la partita l'abbiamo persa. Spero che ci sia più attenzione nelle occasioni che si creeranno, che sicuramente non saranno tante perché saranno due squadre forti, quindi che si affronteranno. Cercheremo di sfruttare al meglio le opportunità. Questo è quello che deve fare una squadra per vincere questa partita secca contro una squadra forte con la Reganatese.